Il programma che mi ha dato più emozioni? Beh, lascerei perdere il cinema dove le emozioni sono scontate e sono forti, ma sempre legandosi al viaggio probabilmente il programma che più mi ha dato emozioni da raccontare, emozioni vissute, è stato proprio Gente di mare, un programma che è andato in onda sul satellite parecchi anni fa, e grazie a Gente di mare abbiamo incontrato la Gente di mare, coloro che del mare fanno la loro vita, la loro professione, quindi dagli ufficiali di marina al marinaio semplice, arrivare al pescatore, al palombaro, al subacqueo, e devo dire che la Gente di mare ha qualcosa di diverso, di completamente diverso dalla gente che conosciamo noi, che probabilmente vive in città. Grazie a tutti.